Ciao tutti, buongiorno. Ciò che non aveste insolito è un po' per me, perché io non sono un influencer, ma ci tenevo intanto a salutarvi tutti, perché mi sembrava giusto, perché mi arrivano tanti messaggi, c'è tanta gente che mi chiede come stiamo, come sto. Allora intanto volevo dirvi che sto bene, Andrea sta bene, la mia famiglia sta bene, siamo tutti sereni, è un momento difficile, come ce l'hanno tutti. Difficile nel senso che si continua a lottare, si continua a rendersi conto e siamo consapevoli di quello che sta succedendo. Quindi almeno noi non siamo tra le persone che pensano che sia tutto finito, l'abbiamo sempre detto, siamo sempre stati con gli occhi aperti in questo momento, in questo periodo. Allora noi siamo molto impegnati attualmente a Trieste, perché ci vediamo un giorno sì e un giorno no con l'avvocato, perché comunque i nodi arrivano al pettino. No, sapevamo, eravamo consapevoli di cosa andavamo incontro e ve lo posso dire tranquillamente, noi rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio, quindi nessun rimpianto assolutamente. Quello che voglio dirvi è che vi dirò un paio di cose che sono successe, che spero aprano gli occhi ancora di più alle persone. E soprattutto facciano capire alle persone chi siamo veramente e chi siamo sempre stati veramente, questo è l'importante. Allora parliamo un attimo del comitato perché ci tengo, perché vi voglio rendere consapevoli di cosa succede ogni giorno no? Allora fino a quando c'erano le persone sospese, come noi, noi chiedevamo logicamente la lettera di sospensione e da lì partivano gli aiuti sempre grazie ai donatori. Adesso è una situazione un po' più difficile da capire e quindi per questo noi ringraziamo tutte le persone che abbiamo in giro per il territorio, soprattutto i ragazzi che hanno gli effetti avversi perché hanno creato una stupenda rete fra di loro e questo ci permette di aiutare concretamente queste ragazze e questi ragazzi. La rete legale continua, adesso tante persone si stanno appoggiando al nostro responsabile legale che ricordo è a patrocinio gratuito, proprio perché stanno portando avanti delle varie cause o per licenziamento o per contestazioni ancora riguardanti al periodo che abbiamo passato assieme. Noi abbiamo trovato delle persone che hanno aperto una sezione a Brescia, abbiamo aperto una sezione a Verona, la stanno aprendo a Salerno, quindi in Campania, stiamo parlando con delle persone della Lombardia, tutto questo per essere sempre nei territori. Dopodiché ad oggi noi abbiamo donato 133 mila euro, sempre in buone spese e in bollette pagate, tutto passa dal conto corrente, io non finirò mai di ringraziare i donatori perché è grazie a loro, non grazie a me, Andrea o gli altri del comitato che riusciamo a fare questo, perché non siamo noi che tiriamo fuori i soldi, ma sono questi donatori che si fidano di noi. E quindi io non posso fare altro che ringraziarli. Leggo di questa Chiara Bevi l'Acqua, io ti ringrazio perché noi abbiamo avuto la visibilità che tante persone come te non hanno avuto, noi siamo consapevoli che ci sono tanti lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che si trovano nella nostra stessa situazione, per questo io dico quando la gente dice che noi abbiamo avuto coraggio, ci sono persone che si sono trovate da sole a fare questa scelta e quindi tanto di cappello e grazie anche a voi e al vostro coraggio. Noi riceviamo tantissime telefonate ogni giorno, proprio perché la gente ha voglia anche solo di parlare con noi e stiamo tentando di fare il possibile. Mi chiedete perché non facciamo più manifestazioni? Perché noi non abbiamo da dire nulla, in questo momento noi siamo convinti che sia il momento di fare e che la soluzione, anche se noi pensiamo che sia una soluzione tanto, la maggior parte pensa che la soluzione sia tanto difficile. Io sono consapevole e sono sicuro che secondo me la soluzione sta in noi nelle piccole cose, sta nel fatto di non accettare quello che sta continuando ad andare avanti. E' proprio per questo che oggi ho voluto fare questa diretta, sapete che non è una cosa per me abituale, proprio perché ci sono delle novità che vengono messe fuori tranquillamente ma sembra che la gente non veda. Non mi metto a parlare di cose mediche come non ho mai fatto, non mi metto a parlare di cose di altro tipo, però vi ricordate la mia DASPO di Pordenone? Quando il questore mi ha dato tre anni di DASPO, mi ha tenuto cinque ore in questura e dopo di che l'avevo vinta, con l'incriminazione a pagare da parte del Ministero dell'Interno. Bene, quel questore il giorno seguente era stato promosso a Monza, quindi tra Pordenone, non me ne vogliono i pordenonesi, però tra Pordenone e Monza c'è una grossa differenza. Dopo di che è toccato al vicequestore di Trieste, che è noto alle cronache per il saluto fascista che intimava alle persone che erano lì fuori dal Varco 4 a disperdersi, no? Vi ricorderete, penso che non me lo dimenticherò mai, quel disperdetevi. Bene, lui è passato da vicequestore a primo dirigente. Oggi vi dico un'altra cosa che è passata, che secondo me la gente non sa, non si ricorda il nome. Abbiamo un commissario nazionale per l'immigrazione adesso, da un paio di giorni. Bene, questo commissario è il prefetto che era a Trieste in quei giorni lì. il dottor Valenti. Questo per dirvi e soprattutto per confermare quello che noi avevamo detto. E mi spiace per chi ha creduto che le cose cambiassero se cambiavano il governo. Perché alla fine, come abbiamo sempre detto, non stanno facendo altro che portare avanti quello che faceva prima. C'è qualcuno che sta usando, sta usando da dietro il governo attuale per portare avanti. Abbiamo visto anche chi è stato nominato a Leonardo, no? Cingolani, che non farà altro che portare avanti tutto questo schema diabolico che è l'Agenda 2030. Io vi posso assicurare che noi dobbiamo fare nel nostro piccolo livello cambiamento. Dobbiamo farlo tra noi, tra le persone che abbiamo vicino. e solamente così cambieremo le cose, solamente senza protagonisti, senza leader, senza qualcuno che si erga a capo popolo. Noi dobbiamo farlo perché sentiamo di farlo, perché siamo persone che vogliono farlo, perché hanno voglia di fare del bene per gli altri, voglia di aiutare queste persone che hanno bisogno. Ci sono tante famiglie in difficoltà in Italia, ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che adesso perché hanno scelto di fare la loro scelta, si trovano malati e senza poter lavorare. Io l'ho sempre detto, la nostra forza dovrà essere quella di lasciare le porte aperte a chi adesso ha fatto la scelta di vaccinarsi o di inocularsi, o chiamiamolo come volete, e magari era uno di quelli che nei giorni in cui noi non potremmo entrare nel bar neanche per andare in bagno ci schernivano, ci prendeva in giro, ci diceva no vax, complottisti. Noi dobbiamo essere forti in questo, non farli sentire il peso addosso di aver sbagliato, noi non dobbiamo giudicarli in nessun modo, noi dobbiamo avere questa forza qui, perché altrimenti andiamo a fare la stessa cosa che hanno fatto loro con noi, quindi discriminarci. e questo noi non dobbiamo farlo. Io faccio sto video non perché sono un martire, ma perché sentivo la voglia di dire a mia. Siccome non sono uno che va in giro a fare manifestazioni, andavo all'inizio proprio per creare rete e sono contento di averlo fatto, lo rifarei, ma però le persone hanno bisogno di un aiuto concreto in questo momento. E logicamente anche noi, non è che viviamo di... d'aria, quindi adesso ho visto che uno mi ha chiesto se io lavoro, io sono stato licenziato in aprile, in agosto è iniziata a arrivarmi l'indennità di disoccupazione, la Naspi. Dura 24 mesi, perché io non avevo mai usufruito di questo, quindi io vivo dignitosamente, grazie anche al fatto che mia moglie lavora e quindi noi siamo persone semplici, non ci manca nulla, non abbiamo bisogno di tanto. Logicamente abbiamo le difficoltà che hanno tutte le famiglie italiane, come ognuno, e quindi non sono qui né per fare il martire né per altro, ma per dirvi che è giusto resistere, che dobbiamo resistere e se vediamo qualcuno in difficoltà dobbiamo aiutarlo, questo dobbiamo fare. Dopodiché non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver paura di quello che succederà, a quello che sta succedendo, anzi, io ho avuto la fortuna di conoscere tante persone durante quest'anno e mezzo, e vi posso assicurare che ci sono tante persone meravigliose, tante persone pronte a non lasciare nessuno da solo. Dopodiché ritorno al fatto del mio licenziamento, io ho avuto la prima causa, mi sono trovato davanti alla mia azienda che voleva finire la storia dandomi dei soldi, io non ho neanche risposto, ho detto direttamente al giudice che questa nostra lotta per i diritti era iniziata per questo e così doveva finire. Quindi io ho detto che rifiutavo e che voglio solamente che il giudice decida se il mio licenziamento è legittimo o no. Anche la DASPO di Roma doveva essere giusta e poi ho vinto, la DASPO di Pordenone doveva essere giusta e ho vinto. Il licenziamento secondo me è totalmente ingiusto, perché io sono stato licenziato perché non volevo usare Green Pass. Io dal 15 ottobre e primo dicembre, visto il primo decreto, ho fatto l'autosospensione e quindi non avevo stipendio. Poi dopodiché dal 31 dicembre al 30 aprile ho rinnovato la mia autosospensione senza stipendio. Nel frattempo ho vissuto con la liquidazione, ho vissuto con quei risparmi che avevamo da parte e adesso vivo di Naspi e grazie anche allo stipendio di mia moglie. Quindi queste sono le solite domande, poi sapete io ne ho sentite di tutti i colori. Questa pagina Stefano Puzzeroffice, mai avrei pensato di dover fare una pagina. L'ho fatta perché in quei giorni, soprattutto all'inizio, veniva fuori che mi ero impiccato, che la mia famiglia era stata rapita. E siccome queste notizie erano fuorvianti, assurde, follie, e io ho una madre di 70 anni che ha avuto un infarto, nel caso in cui veniva fuori una storia del genere e io non fossi riuscito ad avvertirla, allora ho detto, metto qui le notizie vere, così solo da questa pagina verranno fuori le notizie vere. Ci sono varie pagine a nome mio di tutti i tipi, ci sono persone carinissime che mi avvertono che ci sono queste pagine false, oppure che mi lantano di essere pagine mie, tipo, non so, Stefano Puzzer, Salvatore della Patria, dove mi si vede con una corona di spine, poi noi siamo Puzzer, noi siamo Stefano Puzzer, tutte cazzate, però sapete che a me non interessa nulla perché io non sono uno social, quindi non ne può fregare di meno. Io vi posso assicurare che se conoscete delle persone che tengono a questa nostra battaglia, io scrivo le cose qui o sul comitato tramite Andrea. Vi volevo dire che Andrea sta bene, logicamente siamo stanchi, stanchi perché stiamo affrontando varie battaglie, però il moto della gente come noi non molla mai, non è solo un moto, è una cosa che noi dobbiamo sentire dentro. E quando sentiamo e parliamo con i ragazzi che hanno avuto effetti avversi, vi posso assicurare che anche se abbiamo noi un momento di sconforto, ti passa, ti passa subito. Anzi, ti quasi vergogni di avere un momento di sconforto, perché davanti a situazioni come quelle che stanno vivendo loro, come avete visto, anche adesso sul mainstream vengono messe fuori. Vi vogliamo ringraziare Mario Giordano, vi vogliamo ringraziare Raffaella, Regoli, la nostra guerriera. In questo momento dobbiamo dare supporto a persone come loro, perché credetemi, quello che stanno facendo non è una cosa facile. Esporci in quel modo non è una cosa facile. Io vi do una notizia, dai, facciamo così, perché non è che posso spingermi più di tanto. Sul fatto del prefetto di Trieste che vi ho detto prima, che è stato promosso a commissario, io andrei a vedere chi è, tutto qua, questo vi dico. Basta mettere il prefetto di Trieste, nel momento in cui c'erano le proteste, troverete il nome e cognome, e andrei a vedere chi è. E così cominciamo a farci un quadro veritiero di quello che sta succedendo. Dopodiché voglio dire anche una cosa sul fatto di quando c'eravamo candidati, visto che ancora adesso mi arrivano domande, ed è giusto così, anzi approfitto che siamo qui in diretta, se qualcuno ha voglia di fare qualche domanda alla faccia, perché rispondo volentieri. Serviva proprio per mettere un qualcuno di noi, tipo Fraiese, tipo Giorgio Bianchi, per avere qualcuno là dentro, perché secondo me ci fanno vedere che sono uno contro l'altro, ma sono tutti il stesso po' a pochio, sia da una parte o dall'altra. Fanno il teatrino, in tv, ma sono sicuro che gente come Fraiese adesso non avremmo il problema che al posto di Brusaferro ci va da Bassetti. A parlare del conflitto non avremmo un politico che ha sempre fatto solo il politico, ma avremmo un Giorgio Bianchi che è stato lì in quelle zone e sa le cose. E quindi noi avevamo bisogno di persone di quel calibro lì, questo sarebbe stato importante per tutti noi, però è andata così e quindi non si può tornare indietro. Io rifarei quella scelta perché sono convinto del programma che aveva Italexit, se ne sono proprio convinto, perché fino a quando non usciremo dalla Nato, dall'Europa e non finiremo di essere schiavi degli Stati Uniti, anche perché noi italiani non abbiamo bisogno di nulla da parte di nessuno, anzi, l'Europa per noi è solamente una palla al piede e questo ve lo dico perché è il pensiero di un facchino di Trieste, licenziato, tutto qua, quindi io sto bene, andiamo avanti, a chi mi chiede cosa stai facendo, noi sto facendo quello che dovrebbe fare ogni italiano. Noi stiamo dando una mano, abbiamo usato quella visibilità della quale non sapevamo cosa farcene, perché ci ha fatto conoscere tantissime persone meravigliose, però era giusto dare un senso a questa visibilità e quindi noi stiamo dando una mano alle persone. Grazie a chi ci ha conosciuto, che si è fidato di noi, che ci ha guardato negli occhi, che ha capito veramente chi eravamo e se ci ha giudicato, ci ha giudicato perché ci ha conosciuto, perché poi alla fine ci sono due pesi e due misure, uno che mi giudica, che però non ha mai parlato con me, non sa chi sono, io non gli do neanche peso, cioè non neanche mi scivola addosso, proprio neanche lo guardo. Se invece una persona ha un confronto, mi guarda negli occhi e mi dice quello che non gli va, ben venga, ben venga, ma ha avuto almeno le palle di guardarmi negli occhi e dirmi perché gli sto in quel posto. Quindi io vi dico adesso, diamo una mano alle persone danneggiate, se ne volete fare tramite il comitato, fatelo anche voi, le trovate le persone, sono in giro per tutta Italia, ci sono dappertutto, quindi anche la vicina di casa, se non ha la possibilità di farsi la spesa, aiutatela. Questa è la vittoria, così usciremo da questo. Vi ricordate in quelle giornate di Trieste io ho sempre detto, loro potranno fare quello che vogliono, ma non riusciranno mai a parlare con il cuore, perché noi abbiamo il cuore ragazzi, quello che loro non hanno e quindi noi abbiamo già vinto. Nessuno ci porterà, quando loro parlano di obbligo, l'obbligo nasce quando noi lo facciamo diventare un obbligo, se no non sarà mai un obbligo. Questo è importante, dipende tutto da noi, lo Stato siamo noi, non sono loro, siamo noi. Se la nostra Costituzione non viene rispettata, noi abbiamo il dovere di imporci, di farla rispettare. Abbiamo il dovere, il dovere per i nostri figli, per la nostra famiglia, per chi è morto per la nostra Costituzione. Ricordatevi che ci sono persone che sono morte per la Costituzione. E quando tutto ci pensiamo fosse o sia impossibile, non è vero, niente è impossibile. C'è chi ha fede, chi non ha fede, o chi crede in qualcosa, chi crede in qualcosa, non conta niente. L'importante è non fare la guerra dei poveri tra di noi. Ricordatevi, siamo tutti cittadini italiani e tutti abbiamo lo stesso dovere, lo stesso orgoglio. E dobbiamo riprenderci la nostra dignità. Quindi io con questo vi saluto, mi ha fatto piacere fare questa cosa qua, perché avevo voglia, proprio avevo voglia di salutarvi e dirvi che sto bene. Siamo stanchi, siamo spesso da avvocato. E andiamo avanti, andiamo avanti. Quando lo dicevo anche nelle piazze, non dovete venire a chiedere i selfie o le foto. C'erano tante persone nelle piazze, giratevi vicino a voi, c'è un'altra persona come noi. Fate rete. Prendete i numeri di telefono, non scrivetevi su Messenger, trovatevi per un caffè, mangiatevi una pizza, fate un picnic, ritorniamo a parlare tra di noi, incontriamoci. Non serve andare a una manifestazione a 50 km da casa. Prendiamo le persone che ci sono nella nostra città, troviamoci. incontriamoci, facciamo una cacchierata, facciamo conoscere i bambini tra di loro, facciamoli giocare. Viviamo la nostra libertà, perché nessuno potrà tirarcela via se noi non daremo il nostro consenso, abbassandoci a quello che ci dice. E ricordatevi, adesso entrerà in gioco l'identità digitale. Non ce ne stiamo accorgendo, ma sta entrando in tutte le cose. Sono andato a fare, a donna sangue, la scorsa settimana mi hanno chiesto se avevo lo speed, se avevo sesamo, insomma, io no, io voglio il cartaccio e quando sarà pronto verrà a prendermelo. Questo è. Quindi grazie che mi avete sopportato questa decina di minuti, questo quarto d'ora. Adesso se avete qualche domanda, me la fate, io vi rispondo volentieri. Sarebbe bello essere di persona. Ma ditemi voi. Non sono un uomo meraviglioso, sono una persona normale. Guardate, vi faccio ancora un esempio, carino. La scorsa settimana mi ha chiamato una giornalista e mi ha detto che voleva farmi un'intervista. Io ho detto, va bene, però sappi che forse sono l'unico che ha nemici sia da una parte che dall'altra. E quindi non penso che ti sia conveniente fare un'intervista a me. E lei non capiva il perché. Dopodiché mi ha detto, bene, allora mettiamoci d'accordo. Ti manderò le domande, tu mi dici se va bene. Mi manderai le domande? Sì, si usa così. Io ti mando le domande e poi tu mi dici se ti vanno bene. Ho detto, guarda, noi persone normali, quindi parlo di me, di voi, non abbiamo bisogno che nessuno ci prepari il terreno. Lei ha fatto il suo mestiere, perché si vede l'hanno abituata così. Ma noi abbiamo bisogno di domande, le cose sono queste, ragazzi. Non dobbiamo raccontare nulla a nessuno. Quindi ricordatevi una cosa importante. La gente come noi non è uno slogan, ma deve essere il nostro modello di vita. La gente come noi non molla mai e soprattutto aiuta il prossimo, perché è il nostro dovere. E lasciamo la porta aperta a tutti, perché non siamo nessuno, né per giudicare e né per discriminare, perché altrimenti faremo la guerra dei poveri, non riusciremo mai. La magistratura venduta? In questo momento la realtà è che dobbiamo basarci su questa magistratura. Non abbiamo altre possibilità. L'importante è che noi sappiamo che abbiamo fatto solamente cose giuste. L'esempio che noi diamo ai nostri figli è che ci siamo comportati a modo. Non abbiamo fatto del male a nessuno, abbiamo rispettato noi in primis i nostri diritti e la nostra Costituzione. Quindi questa deve essere la prima magistratura, siamo noi a casa, la nostra famiglia. Dopodiché dall'altra parte ci sarà un uomo. A qualcuno un giorno tutti dovranno rispondere, ricordatevelo. Siamo, io vi dico la mia, per me siamo qui, siamo di passaggio e dobbiamo fare il meglio possibile. Non dobbiamo sentirci discriminati in primis, solo a noi, solo a me succede questo. No, a ognuno succede quello che si porta avanti. Ricordatevi che sbaglia chi fa e soffre chi fa. Chi fa finta di niente, chi non vuole vedere, ma quella persona non vive, sopravvive. E chi non lotta per i suoi diritti è già morto. Quindi ragazzi, vi voglio bene, la gente come noi non molla mai. Guai, guai. E ricordatevi, nessuno si deve sentire da solo. Noi ci siamo, magari anche solo per una telefonata. Ciao a tutti.